Allora, abbiamo visto accessibilità a 360 gradi della zona di montagna dell'Alpecimbra, bellissimo per chi ha anche dei problemi a spostarsi per ragioni fisiche, eccetera. Poi, una volta terminata l'attività sportiva, accediamo alle strutture, a vario titolo, in modo, quindi non solo fisicamente, ma in qualche modo bisogna potersi muovere dentro queste strutture. Quando uno pensa alla montagna, tante persone dicono o vado nel grande hotel, nella grande località di montagna, dove trovo un mega ascensore, eccetera, oppure ci possono essere dei problemi. Com'è da voi? Da noi questo aspetto è stato curato all'inizio di questo progetto, perché evidentemente... Quindi 12 anni fa, ovviamente. di 10 anni fa e abbiamo una decina di strutture che hanno aderito ad un protocollo di accessibilità e che quindi abbiamo certificato accessibili, sempre con la collaborazione di sci e di passione, quindi sono strutture che sono in grado di rispondere a questa esigenza. Tutto quello che noi abbiamo raccontato, anche per capire poi come effettivamente poter comprare questo tipo di servizi, la proposta outdoor, piuttosto che gli alberghi, piuttosto che le altre strutture che ci sono sul territorio, lo abbiamo raccontato all'interno del nostro sito, vi è una sezione dedicata che si chiama For All e all'interno sono descritte tutte le attività, quindi dal trekking alla gioletta, l'handbike allo sci con i riferimenti telefonici per prenotare, sono caricate all'interno della sezione esperienze, già tutte le attività che sci e di passione propone durante la stagione, quindi con un semplice click. Eccola qua gioletta, abbiamo visto le immagini. Esatto, possiamo prenotare la nostra esperienza in handbike e poi grazie a un lavoro che abbiamo fatto con Andrea vi è una mappa dove, poi magari ce lo racconta meglio lui, dove vediamo queste cose dove sono esattamente. Abbiamo fatto un ulteriore passaggio dall'anno scorso che è stato quello di formare una persona all'interno della nostra struttura che abbiamo chiamato l'Angel, quindi questo angelo custode di questi nostri ospiti a cui potersi rivolgere per qualsiasi tipo di informazione, perché poi le esigenze non sono così standardizzabili perché quella stessa disabilità può avere dimensioni completamente diverse. Quindi avere anche una persona sul territorio senza dover chiamare l'albergo, scegli passione o non si sa chi, se loro contattano questa figura semplicemente gli vengono fornite tutte le informazioni facendo già una prima scrematura di quella che può essere la soluzione finale. Questo è molto importante, perché per quanto ci sia il web che ti può dare una mano per tutto, avere una persona fisica che capisce qual è la problematica credo che può dare anche una grossa mano. No, è fondamentale perché altrimenti, come dire, si vedono dei bellissimi racconti e sembra, come dire, visto che siamo abituati ormai su tutto con un click ad avere tutto, potersi confrontare e dire io ho bisogno di questo e di questo e con due semplici passaggi arrivare alla soluzione ideale, insomma questo è molto importante soprattutto per chi non conosce il territorio. Assolutamente, basta diceva, dopo racconterà Andrea di questa mappa che stiamo implementando. Esatto. Perché le strutture ricettive o l'azienda di promozione turistica Alpecimbra bisogna subito chiedere alla persona quali esigenze ha, perché ok, una struttura può essere a norma, però non ha qua le mie esigenze, quindi se si sa quali sono le esigenze della persona si può dare le risposte corrette. Quali sono i limiti, le cose a cui puro attenzione in modo particolare? Io dico tanto per chi ha delle strutture, quindi qua può essere di insegnamento agli operatori del settore che magari ci seguono e che a volte possono commettere anche nelle ristrutturazioni degli banali errori o delle omissioni e anche a chi invece cerca una struttura, che cosa deve chiedere principalmente? Per esempio quando vado in una struttura, sono fortunata che vado con la mia casetta mobile perché ho il camper, però anche col camper cerco sempre delle strutture dove mi posso muovere all'interno del campeggio, ma chi invece va in una struttura in un hotel, tante volte, prima cosa, quando la persona della reception si rivolge al turista, parlare con me e non parlare con mia moglie perché io sono in grado di rispondere e quindi non parlare all'accompagnatore ma al diretto interessato e poi nella struttura recessiva possiamo avere problemi nella reception perché abbiamo il tavolino alto oppure quando andiamo in sala da pranzo ci troviamo il tavolino con i piantoni centrali che invece i piantoni sugli angoli, quindi sono dei piccoli accorgimenti, bisogna fare attenzione, dopo quando abbiamo il bagno, la doccia, il wc, il letto. Quello veramente sono... E quindi bisogna fare formazione, informazione con le strutture ricettive, fare le mappature quando si danno dei dati, bisogna dare dei dati corretti e non dare dei dati buono, accessibili, buono, medio, discreto, ottimo, ma dare proprio delle misure e quindi io in base alle mie esigenze avere magari una scheda che posso vedere e quindi so in base alle mie esigenze se posso o non posso in quella struttura muovermi. Assolutamente, perché poi d'inverno quando parliamo di montagna parliamo anche di attenzione, si può scivolare, ci sono percorsi particolari oppure magari ci sono delle bellissime strutture che però magari hanno tanti gradini. Certamente, questo qua è il problema dei gradini o quando si va da qualsiasi parte lo contriamo quasi sempre oppure i marciapiedi e anche come associazione facciamo queste formazioni o mappature e consegniamo ai vari comuni dove abbiamo delle difficoltà a muoverci piano piano i comuni cercano di sistemare... Quindi accolgono le vostre osservazioni. Certamente. E invece, quella della reception è stata molto interessante effettivamente perché è vero questo bancone è sempre alto e la persona che tende a rivolgersi a chi non dovrebbe rivolgersi perché ovviamente è giusta la cosa. Voi che cosa avete notato invece che viene richiesto oppure degli errori che tante volte la famiglia fa con una persona che magari presenta delle disabilità nell'approcciare eccetera a queste discipline? Insomma, più che parlare degli errori, insomma, mi piace raccontare quella che è un po' la nostra esperienza, nel senso che giustamente Andrea ha messo l'accento su quelle che sono le caratteristiche architettoniche che possono facilitare o non facilitare per niente l'accessibilità a un luogo. Noi puntiamo molto ad esempio sulla formazione del nostro personale, quindi a partire dal personale della segreteria. Daniela prima giustamente diceva questo Angel Experience che c'è all'interno dell'azienda per il turismo preparata nel percepire determinate necessità e anche noi facciamo questo sia con il nostro personale di segreteria ma soprattutto con i nostri maestri e gli istruttori che quindi affrontano anche delle materie di tipo psicologico piuttosto che pedagogico piuttosto che scientifico per prepararsi al meglio ad accogliere le esigenze di tutti. Io dico sempre ai ragazzi che lavorano con me che spesso la cosa che fa la differenza spesso è proprio l'attenzione che ci mettiamo in quello che stiamo facendo nel senso che anche un gradino talvolta se vi è l'attenzione di anticipare che c'è questa difficoltà può essere neanche percepito come un ostacolo a patto che venga vissuto in un determinato modo con l'attenzione da parte dell'altro. Assolutamente. Questi ostacoli, queste barriere architettoniche che si chiamano barriere o cose comunque sono degli intoppi e degli ostacoli. Come li vive? Come sfida? Come un affronto? Come un'opportunità per segnalarlo? Perché poi ognuno in base al proprio ruolo che ha. Eccolo qua, faccio parte dell'associazione Aspetta, va che ti ho beccato. No, li vivo sempre in modo propositivo perché cerco sempre di andare a rapportarmi con le varie amministrazioni dicendo che ci sono questi ostacoli. Mi dispiace che purtroppo ancora oggi vengono realizzate ancora barriere, quindi mi piacerebbe riuscire in qualche modo a entrare in quel ambiente dove si può dare un parere prima che l'opera venga realizzata, quindi realizzare un'opera accessibile o realizzarla non accessibile non vuol dire che costi meno realizzarla accessibile perché se la facciamo, dopo dobbiamo rimettere a posto il lavoro fatto male, costa di più del doppio perché bisogna demolire e rifarlo. Quindi magari con dei piccoli accorgimenti si riesce a rendere questa opera veramente accessibile. Ma poi c'è un altro aspetto che anzi che ci si rende conto che più passa il tempo, che anche le abitazioni dove viviamo noi, tante volte anche le persone cambiano casa, prendono abitazioni, finché tutto sta bene, la prende la casa, che magari ha tanti anfratti, angolini, gira rigira. Poi non appena o deve ospitare o avere a casa un anziano con la sede dell'hotel o succede una disabilità, un incidente e ci si deve muovere diversamente, ci si rende conto che la casa stessa diventa un luogo pericolosissimo. Per cui anche la mentalità con cui si costruiscono le abitazioni dovrebbe prevedere dei diversi fasi della vita, diversi eventi della vita, o rompersi una gamba e dover fare una rampa o due di scale per andare a dormire, forse bisogna riconcepire anche le abitazioni, no? Esattamente, quando faccio questi corsi di formazione spiego proprio ai tecnici, i miei colleghi, i geometri, i ex colleghi, quando si progetta una casa, prevedere che magari un domani in quel punto lì bisogna mettere un maniglione, quindi evitare di magari mettere uno scarico che se bisogna forare, prendiamo uno scarico, un'attivazione, oppure la doccia, prevedere che già la doccia o un domani possa essere una doccia a pavimento, quindi è facilmente usufruibile da una persona in carrozzina, quindi quando si fa questi progetti, sia la normativa ti dice avere un po' una visione futura, non vedere la normativa come un limite da cercare da deviare o imbrogliare, ma qualcosa, un punto di riferimento, un punto di partenza e cercare di fare sempre meglio rispetto alla normativa. Allora, io ringrazio Andrea Facchinelli, Bikers, di essere stato qui con noi, di essere venuto, ci ha fatto molto piacere anche il suo racconto, vedere anche le performance atletiche, queste sono performance atletiche, grazie a Stefano Carbone, direttore scuola Sce di Passione, Daniela Vecchiato, direttore Peti Alpecimbra, altrimenti grazie a tutti con noi, battuta di chiusura velocissima? Noi ve l'abbiamo raccontato, a questo punto l'invito è veramente di raccontarlo a tante persone perché è un messaggio importante di venire a provare queste esperienze, perché è una scoperta importante. E soprattutto dà delle visioni della realtà, della natura, degli ambienti per tutti, veramente foro col termine di una volta. Grazie, grazie a voi, cari telespettatori, io vi lascio la pubblicità, poi noi ci rivediamo dopo, tra poco.